guarda che squadraccia questi che c'hanno ortaccio eh quel dibara ci fa bareb esse mio che farà olè e stiamo a vantaggio incredibile con Gabriele proprio lui oh non vedi che tiro di atto questo parato facilmente dal portiere il difensore grosso errore in fase di marcatura oh può metterlo da lì vicino al secondo gol passavolta dal portiere eh coglione vai noni perché stavo fermo bello un calma non ho sbagliato vai negritice capricini sfruttare questa occasione il ritorio e si gode che fanno ci saluta così il bomber no no sarà fuori cambio se è sicuro oh veneno a ci saluta così e non fa orchi questo incremento mamma battaglia battaglia